Buongiorno, buongiorno da Bob Gas TV. Oggi vi porto alla scoperta della Via Francigena. In questo video vi faccio vedere due paesi, San Gimignano e Monte Rigioni, che fanno parte del percorso che viene attraversato dalla Via Francigena. Quindi, con una declamazione della Divina Commedia, vi auguro una buona visione. Amor che al cor gentil, ratto, s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato, amar perdona, mi prese del costui, piacersi forte, che come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende, chi a vita ci spense. Queste parole, da lorci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, chi n'ha il viso? E tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, Che pensi? Quando rispuose cominciai, Oh, lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio, menò costoro, al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro, e parla io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri, a lacrimar, mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi disidi, e quella a me nessun maggior dolore.